Questo è un progetto che fa parte del nostro progetto di Salon Balla, è un progetto straordinario perché partecipano e portano anche nella nostra associazione centinaia e centinaia di giovani e centinaia e centinaia di anziani digitali. Nel momento che noi chiediamo una società più digitale per semplificare la vita dei nostri cittadini, delle nostre imprese, vogliamo che tutti possano accedere alla città digitale e al mondo digitale e quindi ci siamo preoccupati di questo, ma usando i giovani per insegnare agli anziani. I giovani diventano insegnanti e è un'esperienza, devo dire, affascinante. Grazie. Grazie.